Buon pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale, sono sempre io Gabriella in Arte Bria Bisù perché ci incontriamo oggi 1, 2, 3, 4 Perché dovrei girare la seconda parte del video del nostro borsellino, quello in collaborazione con la BB Craft Se vi siete persi il video ragazze vi metto il link giù oppure qui o qui Dipende da come caricherò il video, vi metterò il link Il borsellino come riferimento dell'unboxing è questo ma in realtà noi ne realizzeremo uno completamente diverso Perché utilizzerò le stoffe che mi ha inviato la BB Craft Quindi per chi se lo fosse perso vi invito a vedere l'unboxing E vi ricordo che la BB Craft per voi, voi che siete iscritti al mio canale, ha dato un codice sconto Che è Gabriella 5, ve lo metto qui in modo tale che potrete avere 5 dollari di sconto su un acquisto di 40 Vi ricordo poi che la BB Craft ha tantissimi materiali anche relativi alla creazione di bijoux A tessuti, a stoffe, a resine, a stampi, perline, telai Cioè negli anni veramente mi ha inviato di tutto Quindi io ringrazio la BB Craft Spero che il tutorial vi piaccia Io ho preso, dicevo, le chiusure, queste quadrate della BB Craft Ed ho preso delle stoffe Comunque se vi interessa avete l'unboxing di riferimento Che dirvi, spero che il tutorial vi piaccia Io sono sincera Quando mi si accende una vocina nella mente che mi dice Fai, fai, fai Io seguo l'istinto e quindi farò questo tutorial e lo condividerò con voi Perché mi piace fare questo Mi piace cambiare e creare contenuti diversi Per non essere troppo statica Perché io poi sono una che mi annoio molto Io ho continuamente bisogno di creare cose nuove Spero di farvi piacere E niente, giro la camera Cominciamo subito Preparatevi Sarà un video breve Probabilmente fatto di scatti fotografici Perché la parte più complicata Secondo me Per chi ha le prime armi È creare il cartamodello Poi, non lo so Sarà a voi Dirmelo eventualmente giù nei commenti Mi raccomando Non vi dimenticate mai Di lasciarmi un like Un commentino per supportare il canale E se non l'avete fatto Iscrivetevi E cliccate sulla campanella Per avere tutte le notifiche Vi abbraccio E non vi rubo altro tempo Ciao Questo è il cartamodello Che abbiamo realizzato nel video precedente Quindi avete il link di riferimento Questo è la stoffa E questo è il codice prodotto Della stoffa Inviatami Dalla Babycraft Quindi vi Dovete andare A allineare Per bene La parte Sottostante E la parte superiore Ve l'ho indicato col dito Il cartamodello In modo da centrare Il nostro disegno Che vi inquadro Qui Quindi semplicemente Vado a tagliare Due pezzi di stoffa Con lo stesso disegno Centrale Proprio perché Mi piace che venga uguale Vado ad apporre Il mio cartamodello Sia su un pezzo di stoffa E sia sull'altro Preparo anche Due pezzi Di tela Termoadesiva E vado Semplicemente A stirare Ed ecco La tela Attaccata Alla nostra Stoffa Mi raccomando La tela Della dimensione Della stoffa Non più grande Altrimenti Quando andate a stirare La tela Si attacca Sul tessuto Dell'asse da stiro Quindi mi raccomando Allora Una volta che abbiamo Tagliato E stirato I due pezzi di stoffa Con la nostra tela Andiamo a tagliare Anche la nostra fodera Naturalmente Sempre 16x16 Io vi ho dato Riferimento Per questo Cartamodello Che vedete E 13x12 Quindi restiamo In margine di sicurezza Per il taglio 16x16 Anche della fodera Che naturalmente A me non è fodera Ma è Un tessuto Bello spesso In cotone Se la stoffa È sgualcita Andate un po' A stirare Vedete Io ho stirato Un pochino Mi raccomando Osservate Sempre Il filo dritto Quando andate A sovrapporre Il vostro Cartamodello Ingrandisco Guardate Guardate La trama Il tessuto Sono cose Che non mi dicono Mai Almeno Io non vedo Nei tutorial Di borselli Pochettine Perché Se questo è il vostro Pezzo di stoffa Il filo dritto Corre in questo modo In questo caso A me è tagliato Rettangolare Ma non dovete Mettere La stoffa Cioè Il cartamodello E tagliare La stoffa A caso Ma dovete Sempre Seguire Il filo dritto Quindi la trama Della vostra Stoffa Mi raccomando È molto importante Quindi Andiamo A tracciare Tutti quanti I nostri pezzi Che andranno A comporre Il borsello Allora Ecco tutte quante Le nostre stoffe Naturalmente Qui Già c'è la tela Adesso Andiamo Ve ne mostrerò Una E voi Lo dovrete fare Per tutti e quattro Dovete andare A ritagliare Il cartamodello Naturalmente Segnando I margini Del cartamodello E anche Quelli di cucitura Allora Lo so È una cosa Che stufa Un pochino Però È importante Allora Abbiamo detto Che noi Dovevamo prendere Un riferimento Per il nostro Disegnino Centrale Io Adesso Andrò A tracciare I margini Dal lato Della tela Quindi Mi vado A centrare Dal dritto Osservando Su E giù E dovrò fare La stessa cosa Quindi adesso Metterò Uno spillo Qui In basso Come riferimento E andrò A segnarmi Anche Il punto Superiore Questa è una cosa Un po' Scocciante Però Se volete Centrare Il vostro Lavoro Vi conviene Prendere Dei punti Di riferimento Quindi L'abbiamo Detto Sopra E sotto Ok E andiamo A mettere Anche Uno Laterale Ok E vado A metterne Anche Uno Qui Di lato Poi Naturalmente Non sarà Il centimetro A cambiare La situazione Però Insomma Quindi Rivado Qui E vado A centrare Fisso Con qualche Devo un attimo Scusatemi Ma sempre Con la storia Del telefonino Sul davanti Non è mai Cosa Semplice Sono andata A fissare Con due Sfilli Il cartamodello Alla tela Dopodiché Vado A tracciare Vado Con una penna Così Che voi Possiate Vedere Tutto E vado A tracciare Ok Il mio Contorno Tutto Quanto Naturalmente Ragazze Quello Che voi Vedete Qui Fatto Una volta Lo dovrete Rifare Naturalmente Per tutti E quattro I pezzi Di cui Necessitiamo Per il cartamodello Quindi Procedete In questo Modo E E Voi Avete Questa Rondellina Che vi Ho mostrato Nel video Unbox Sempre Come funziona Ma lo facciamo Insieme Voi Andate A tracciare Facilmente Il margine Di taglio Ok A 7 Millimetri Ma ne esistono Naturalmente Anche Di Spesso Di Margine Diverso Sono Della Clover Altrimenti Vi mettete Con un po' Di pazienza E tracciate Vedete Se avete Un righello Come questo È l'ideale Andate E vi tracciate Naturalmente Pian pianino Tutti quanti I vostri Margini Questo Ha delle belle Righe Di riferimento Quindi Potreste Tranquillamente Procedere Mettere Un punto Di riferimento Perché questo È proprio Adatto Per fare Queste cose E tracciare Tutto il contorno Naturalmente Io Ho questo E vado In questo Modo Qui Tengo Fermo Nello Spigolo E come Vedete Mi traccia Questo Mio Attrezzino Incastrando Questa Linguetta Ok Mi va A tracciare Tutto Quanto Il mio Margine Vi metto I link Sia Di questa Del righello Se vi va Di quando Io L'ho Acquistato Sia Di questi Traccia Marte Ecco Qui Se Girà Ce lo Sfillo Sotto Quindi La rondella È saltata Va bene Nulla di grave Tanto il rovescio Ritracciamo Avete ben compreso Possiamo togliere A questo punto Vedete qui Non ero ripassata Quindi vado Con il righello Perché non si vedeva Il segno Del mio Margine E questo Ci serve Naturalmente Per cucire Ok E questo E questo È il margine Esterno Ok Penso che Adesso Ci siamo Naturalmente La velocità Nel fare Le cose Per il tutorial Non è mai Amica Ok E quindi Come vedete Anche qui Non è molto evidente Come vedete Abbiamo qui Il margine Di cucitura Del cartamodello E poi Abbiamo Il margine Di taglio Io l'ho fatto Di 7 mm Volete farlo Più grande Più piccolo Sta a voi Decidete Mi raccomando Andate a prendere L'altro pezzo Di stoffa Come vedete Anche se c'è la tela Si vede Che questa parte Qui con gli uccellini Con questo disegno È centrato Fate lo stesso Anche Sugli altri Tre pezzi Fodera E Elemento Di stoffa Del retro Ok Ed ora Con le belle forbici Andate a tagliare Tutti quanti I vostri Pezzi di stoffa Mi raccomando Ok Procedo con le altre due Ed eccoci qua 1 2 3 4 Adesso Cominciamo a cucire Le nostre parti Se avete la macchina Da cucire Ben venga Altrimenti Il borsellino È piccino Potreste anche Cucire a mano A voi La scelta Allora Partiamo Con i due Pezzi Ok Questi Che vedete Qui davanti Che sono praticamente La parte esterna Del nostro Borsello Andiamo A mettere Dritto Su dritto E se abbiamo Fatto bene Il nostro Lavoro I margini Dovrebbero essere Ovali Adesso O andate Posizionando Degli spillini Ok E poi Andate Per fissare Le due parti Ed andate A cucire Ok Quindi Cominciate Con il cucire Questa parte Qui Non vi mostro La macchina Perché ho difficoltà Il mio cavalletto È basso Poi vi mostrerò Naturalmente Una volta Cucito Quindi Andate a mettere Gli spilli In questo modo Questo è il mio metodo Io metto Degli spilli Oppure Metto Le Le mollettine Non lo so Se voi Avete Queste mollettine Qui Ok Giusto Per fermare La stoffa Mi fermo Sotto Vado Sotto La macchina E mano A mano Che cucio Tolgo Lo spillino Naturalmente Ho La pinzettina E vado A cucire Questo Margine Sia da un lato Che dall'altro Ed arrivo Fino Alla fine Da un lato E dall'altro Adesso Andate a cucire Qui in basso Un pochino Lasciando un'apertura Centrale Per svoltare Il lavoro Da un lato E dall'altro Adesso Procediamo A fare Gli angoli Quindi Praticamente Dobbiamo Aprire Ok In questo modo Accoppiare In questo modo Ben centrato E aprire Queste Due Alette Mettere Uno spillo E una volta Che avete fatto Questa operazione Dovete andare A cucire Praticamente Così Dove c'è Proprio La lina Che abbiamo Segnato Della cucitura Quindi In questo modo Mettendo Le cuciture Centrali Aperte Sia da un lato Che dall'altro Se vi risulta Difficile Allora Piegate Una da un lato E accoppiate Le altre due Da un lato In modo tale Da creare Lo stesso spessore Sia da un lato Che da un altro Perché se le giriamo Tutte Dallo stesso lato Avremo qui Uno strato Spessissimo E sotto la macchina Potremmo avere Difficoltà Quindi Andate in questo modo E cucite Qui Io c'ho la macchina Qui davanti Ragazzi Ma non riesco A inquadalarla In questo modo Naturalmente Facciamo la stessa cosa Anche Dall'altro lato Ok Uno E due E andiamo Sotto la macchina Allora Ecco qui Praticamente Il risultato Che abbiamo Ottenuto Adesso Quello che abbiamo Fatto con questo L'andiamo a fare Con gli altri Due Pezzi Ok Quindi procedete A fare le stesse Identiche Cusciture Laterale Sotto E Questa parte Una volta che le avete Accoppiate Gli step Il procedimento È lo stesso Non cambia Allora Queste sono le due parti Naturalmente Del borsello Questa parte Qui L'ho già Risvoltata Vedete Sul dritto E questo È sul lato Del rovescio Adesso Cosa faccio Vado ad inserire Ben benino Questa parte All'interno Di quest'altra Quindi Praticamente Guardate In bastitura Vedete C'è il segno Del cartamodello Dentro E fuori Quindi Vuol dire Che internamente Sono dritto Con dritto Adesso Dovete Ben Centrare Le due parti Spingete La parte Della fodera Ben Cioè La parte interna Spingete La per bene In questo modo E andate A Cuscire Tutto In quanto Il contorno Del nostro Borsello Che poi Dovrà andare All'interno Della nostra Chiusura Click Clack Se avete Fatto Tutto Nella maniera Corretta Spero Di averlo Fatto Anche io Andiamo A utilizzare L'apertura Sul fondo Naturalmente Ragazze L'apertura Potreste Lasciarla Anche qui In alto E risvoltare In alto Io Preferisco Fare In questo Modo Mi sono Abituata Così E quindi Vado Così Andate A rigirare Pian pianino Tutto Il lavoro Ok Ok Ecco Questa parte Qui O fate Un punto In questa parte Un puntino Invisibile Oppure Andate Sotto La macchina E fate E fate Una bacchettina Ad un paio Di millimetri Ok Io Farò In questo Modo In questo Modo Tagliate Naturalmente Il filo In questo Modo E vado Poi Naturalmente A portare All'interno Questa È un'operazione Un pochino Rompiscatolina Perché Dovete Andare Naturalmente A tirare Tutta Questa Parte E Livellarla Per benino Vi insegno Vi mostro Un trucchetto Allora Andate Con Uno spillo Ok E Con calma Senza Naturalmente Danneggiare La stoffa Andate A portare Fuori Tutti Quanti I vostri Bei Margini Quindi Pian pianino Un po' Con le mani In qualche punto Tipo Negli angoli Che è un po' Più Complicato Andate a Prendere Pian pianino Vedete I vostri Margini Sistemate Tutto Per bene Guardate Che carino Come vedete Questa parte Con i due uccellini Viene centrata Vado a fare lo stesso Di qua Guardate Questa è la parte Sottostante Guardate La precisione Del disegno Quindi se posizionate Bene La stoffa I cartamodelli E prendete Dei punti Di riferimento Come vi ho mostrato Anche la parte Sottostante Adesso Naturalmente Dovrete andare A fare Un puntino Invisibile Che non so Se vi mostro In questo video O faccio Una piccolissima Clip Quindi Guardate C'è Una simmetria Ed una Come dire Guardate Di lato È leggermente Sfalzato Ma di qua È perfettamente Preciso Quindi Credetemi Per me Che non sono una sarta Queste sono piccole Ma grandi Soddisfazioni Perché ti rendi conto Che se ti impegni E lavori bene Puoi riuscire In molte cose Allora Adesso Viene la parte Più Come dire Più spaventosa Andiamo a vedere Se abbiamo Naturalmente Centrato Il Fatto per bene Il nostro Cartamodello Perché questa è la prova finale E praticamente Dobbiamo andare A inserire La nostra Il nostro Scusatemi Cartamodello All'interno Ok Diciamo che ci siamo Per fortuna Quindi Anche naturalmente Dall'altro lato E questo sarà Il nostro Borsello Finito Naturalmente Dobbiamo andare A imbastire Metterò Probabilmente Velocizzato Sperando di riuscire A mostrarvi Tutto per bene Naturalmente Mi raccomando Sotto Punto Ceco Punto Invisibile Non so come lo chiamate Dovete prendere Un puntilo Da un lato E dall'altro E fare Tipo una sorta Di zig zag Ma microscopico Ma su questa stoffa Ragazzi Non vedreste Nulla Come vedete Il borsello È sostenuto Perché abbiamo messo La parte Per indurire E quindi è veramente Adorabile Il risultato finale Adesso Vado Con pazienza A imbastire Centrate Bene Dove c'è La cerniera Io ho dimenticato Il filo Da imbastitura Vabbè Ma vi faccio vedere Allo stesso modo Entro Dal retro Naturalmente Questa è L'imbastitura Cioè È da dove Dobbiamo partire Poi Una volta Che l'abbiamo Fissato Faremo La cucitura Definitiva Quindi ho preso Un filo Duffiato Semplicemente Che Se Fantasticamente Ok E procedo In questo modo Quindi Primo punto Dato Verifico Di essere Ben centrata Ok E rientro Naturalmente Io Non riesco A mostrarvi Ok In questo modo Dopodiché Aiuta A proposito Ho dimenticato Dovete Stirare Questa parte Vi agevolerà Sicuramente Il lavoro Aiutandovi Con Un piccola Pinzettina Inserite All'interno Ok Ok La vostro Il vostro Borsello Io Per una questione Di velocità Non stiro Ma voi Stirate Sicuramente Vi troverete meglio Adesso Vado a cucire Semplicemente In diagonale Vado da dietro E individuo Muovendo un pochino Con l'ago Il foro Qui davanti Mi sposto Così proprio Un pochino In diagonale Di due fori In due fori Tanto E soltanto Quindi vado sul retro Scusate Non sto inquadrando Nulla E vado in questo modo Questo a mio avviso È il metodo Più semplice Per fare questa operazione Metterò Velocizzato Mi raccomando Restate con me Fino alla fine del video Perché vi mostro Poi come cucire A mano In modo definitivo Ma senza Far vedere Quelle cuciture Assurde Che ogni tanto Vedo Sulle nostre Porchette Borsettine La cucitura Deve essere Quasi Invisibile Quasi Una volta Che avete fatto L'imbastitura Da un lato Centrate Mi raccomando Centrate Inserite Anche l'altro lato E andate a fare La stessa Inbastitura Una volta Che avete finito L'imbastitura Naturalmente Controllate La chiusura Come vedete Funziona Tutto Come deve Funzionare Quindi Procediamo Poi Alla Cuscitura Definitiva Naturalmente Tra le mani Rigirandolo La stoffa Si sgualcirà Ma una passata Di vapore Ragazzi Si sistema Però Queste stoffe Sono veramente Deliziosissime Ok Prendiamo Ago E filo Mi raccomando Il filo In tinta Nel mio caso Io utilizzerò Un colore Insomma Un blu scuro Ok Ok C'è tanto blu scuro Quindi andrò Di blu scuro Oppure Potrei andare Di viola Quindi Andrò Di blu scuro Poi naturalmente Decidete il colore In base alla vostra Stoffa Ok Vado Ago Naturalmente Non l'ago Da tessitura Di berline Ma un ago Tipo anche Quelli da ricamo O un ago Abbastanza spesso Perché dovete Muovervi Attraverso La stoffa E i forellini Quindi deve essere Un ago Comodo Allora Una bella Cugliata di filo Io la metto Doppiata Faccio Piccolissimo Nodino E procedo Con la cucitura Apro il mio Borsello Comincio Da qui E vado Comincio Dal vetro Entro Col mio ago Sotto Quella che è La mia Chiusura E spunto Mi posiziono Con le dita E spunto Vedete Nella prima Scanalatura Tiro Tiro Bene Il filo Ho fatto Una gugliata Abbastanza Lunga Vedete Tiro In modo tale Che il nodino Sparisca Al di sotto E che non Si veda Quindi Al di sotto Anche se Scuro Non ci vedo Un granché Però Ok Io Non lo vedo Ok Adesso In cosa Consiste La cucitura Tra virgolette Ceca Che dovete Fare Non cieca Invisibile Cosa consiste Questa Cucitura Invisibile Io In questo momento Rientro Nello stesso Punto E spunto In diagonale Ma sempre Qui vedete Proprio a filo 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 Della mia Base E riesco Nuovamente Sempre Nello stesso Poro Faccio Quest'operazione All'inizio Naturalmente Per fissare Questa parte Iniziale Quindi Salgo e scendo Un paio di volte Ma praticamente Da questo lato Non si vede Perché mi propunto Una volta Che sono uscita Da qua Salite quindi Un paio di volte Rientro Quindi E rispunto Sempre A filo Ok Vado in questo modo E Come vedete Non cucio Fuori Ma faccio Un puntino Dentro All'interno Della mia Base E spunto Sempre Nel secondo Foro Ok Quindi Praticamente Il mio puntino Non si vedrà Vado A questo punto Nel terzo Punto E spunto Sempre A filo Tiro Mi sono portata Tutto dietro Tiro Mi sposto Da dove sono uscita Di qualche millimetro All'indietro Ma sempre All'interno E nascosto Sotto La mia Base E rispunto Sempre Nel terzo Foro Vedete Prima cucitura Nel terzo Nel terzo Foro Faccio Questa operazione Ora velocizzo Un pochino Faccio questa operazione Quindi Continuamente E in questo modo Con i puntini invisibili Fatti Nella parte Sottostante E spunto E spunto di nuovo Qui Faccio quindi Questa tipologia Di cucitura Sempre A filo Sempre A filo Vado Di qualche millimetro Indietro Posiziono Il Il mio Ago In diagonale E rispunto Nello stesso Forellino In questo modo Io adesso Vado a togliere La mia Imbastitura Quanto qui È stato Cucito In questo modo Quello inquadro Da vicino Il mio davanti È cucito Vedete Ma Il dietro Al di là Del micro Puntino Posizionato Qui sotto Ragazzi Non si vede Nulla Questo Per me È il modo Corretto Di Cucire Questa Tipologia Di borsellini Le chiusure Senza Naturalmente Che si vedano I punti All'interno Ci si perde Un po' di tempo In più Ma il risultato È decisamente Migliore Voi che dite Poi naturalmente Ognuno Trova il suo metodo Però Secondo me Così Le cuciture Cioè Date proprio Dei micro Puntini Che se anche Si vedessero Sono di Due millimetri Ma non è Una Cucitura Insomma Esagerata Così Visibile Quindi Procedete Così Per tutto Quanto Il vostro Borsello Vi do Un info C'è qualcuno Che posiziona Prima di mettere La stoffa Anche un pochino Di colla E poi Ci va a infilare La stoffa Io Essenzialmente Temo di fare Plasticci La colla Non la uso Mai Preferisco Insomma Fare in questo modo E cuscire Casomai Con il filo Un pochino Doppiato Potrete utilizzare Anche quello Da ricamo E niente Ragazzi Vi saluto Poi domani mattina Con la luce Più decente Ve lo mostro Finito Ciao Buongiorno Ragazze Che dire Mi aspettavo Un po' di collaborazione In più Dal tempo Ma è brutto Tempo Però Sicuramente C'è più luce Ieri sera Quando ho finito Il girare Il video Allora Questo È il borsellino Come vedete Se io lo metto Così La cucitura È ben nascosta Ho messo anche Questo piccolo tag Intonato Con i colori Insomma Che ci sono Anche qui Sull'esterno Sono andata Di contrasti Se inclino Ovviamente I puntini Si vedono Si notano Ma io Li ho fatti Di proposito Con colore Blu Per farvi vedere Come dovete Fare Questi Puntini Se Vi fate Tono Su tono Come il colore Della fodera Decisamente Si nota Di meno Quando vi aprite Il borsello Vedete Che comunque È Un'operazione Fatta In modo sicuramente Più Purito Questo È L'esterno Del nostro Borsello Quando si va Aprire Questo è l'effetto Immaginate Che io vi sto Inquadrando Molto da vicino Ma i puntini Devono essere Piccini Poi Poi Naturalmente C'è chi Con la pinza Va a chiudere Anche Leggermente Con la pinza Quella Con le punte Delle vestite Di plastica Va a chiudere Io Questa operazione Non In questo momento Non la faccio Poi eventualmente Ci penserò Naturalmente Se poi Volete rendere Ancora più Cicciottello Il vostro borsello Potete metterci Un'imbottitura Tra Gli strati Di sto Niente ragazzi Che dirvi Io spero Il tutorial Vi sia piaciuto A me È piaciuto Realizzarlo Per voi Quindi vi ringrazio A tutti quanti A chi è arrivata Fin qui A vedere il video Mi raccomando Ragazzi Lasciatemi Un like E come sempre Che dire Buona creatività A tutte Ciao